Impostare fin dall'inizio una tattica di monetizzazione efficace non è affatto semplice, ci dirà sostanzialmente il mercato se stiamo andando nella giusta direzione. È però fondamentale imparare fin da subito a tracciare i nostri risultati per capire se effettivamente vi sia bisogno di un pivot, di un cambio di direzione. Vi invito quindi fin dall'inizio a strutturare delle metriche di base da monitorare e scegliere uno o due KPI, ovvero Key Performance Indicators. Questi KPI saranno la vostra stella polare, quello a cui voi dovrete sempre guardare. Il KPI è quindi la metrica fondamentale che andrete a rincorrere a seconda del vostro modello di monetizzazione. Potrà quindi cambiare il KPI a seconda che voi decidiate di adottare o meno differenti modelli, ma sostanzialmente dovrete sempre cercare di capire, a seconda del vostro settore, quale sia la metrica su cui concentrarvi. Ad esempio, per modelli a subscription, la metrica fondamentale è quella della retention, ovvero dell'utilizzo costante del proprio prodotto. Nel momento in cui una persona smettesse di utilizzare il prodotto, probabilmente interromperà anche l'abbonamento. Sarà quindi fondamentale cercare di, soprattutto all'inizio, mantenere attivi gli utenti che si iscrivono al nostro prodotto o servizio. In un secondo momento diventerà poi fondamentale trovare sempre più clienti, ma inizialmente sarà piuttosto fondamentale il compito di capire da quelli che abbiamo quale sia veramente il valore che stiamo trasferendo e quindi anche poter effettuare dei test su questi primi early adopters.